Un campo di partenti di livello al 53esimo Rally Valle Ossolane che partirà sabato con 45 minuti di anticipo per volere della questura e che si potrà vivere in diretta televisiva su VCO Azzurra TV e in streaming al sito tuttonotizie.info a partire dalle 15.30 di sabato. Alle 15.45 dal palco di Malesco il via la gara più amata dagli sportivi del territorio senza nulla togliere alle altre importanti manifestazioni locali. Quali saranno i veri favoriti? Chi staperà il fatidico spumante dopo un totale di 10 prove speciali dopo oltre 78 km di tratti cronometrati? Tentiamo di buttar giù una proverbiale griglia di partenza. Con 5 stelline, inevitabile, il favorito numero 1 non potrà che essere Davide Caffoni che con Mauro Grossi e la loro Ford Fiesta R5 correrà per fare la storia e diventare il primo pilota a vincere il Valle Ossolane per 4 volte consecutive cosa non riuscita nemmeno al plurivincitore Franco Uzzini che nei primi anni 80 si fermò a tre successi di fila. Conosce le speciali a menadito e il pilota che meglio ha fatto e non solo in Ossola negli ultimi anni è atteso con un pacchetto tecnico di primissimo livello. Ergo è il favorito. A 4 stelle mettiamoci un terzetto Alex Bocchio con Mancini che corre con la Skoda R5 va tremendamente tenuto in considerazione. Un po' per la classe dell'equipaggio, un po' per la macchina decisamente performante ed un po' perché quando Bocchio è venuto al Valle ha sempre lasciato il segno. Stesse quattro stelline agli elvetici Ozzaravasi che sono un equipaggio esperto e veloce più volte campioni nazionali elvetici con il proverbiale Macchinone, una Skoda ufficiale del team Swiss e con la voglia di lasciare un bel ricordo agli sportivi Ossolani. A 4 anche la coppia Varesina composta da Andrea Crugnola e Fulvio Solari copia che solitamente gareggia anche a livello internazionale e che sa andare davvero forte. A 3 stelline 3 Ossolani, outsiders ma non troppo, gente sempre pronta a tirare la zampata. Fabrizio Margaroli con Dresti, Andrea Giudici con Anna Fatichi. Alla classe per essere lì davanti anche il rientrante Marco Laurini con Madame Chiacchella tutti con una vettura R5. A 2 stelline ci mettiamo Massimo Margaroli con Mario Cerutti e Silvano Patera con Barbara Bossi. Attenzione anche a Simone Fornara con Leo Mazzilli. Tra le Super 2000, li mettiamo con una stellina per la vettura un pochino meno potente, possono essere outsider Bestetti con Nicastri e il veloce ucraino Olexey Tamrazov con Nicola Arena. Grazie a tutti.